Amore o amicizia? No, sinceramente non potrei rinunciare a nessuna delle tue. Cioè, lei mi sta chiedendo di scegliere tra Rina e le mie amiche. No, è possibile. Allora, Rina è il mio ragazzo, è dolcissimo, commettiamo insieme da due anni e siamo innamoratissimi. Ci siamo conosciuti due anni fa grazie al mio cusino. Ci vedevamo in piazza, chiacchieravamo un po'. Avevo già capito che tra di me c'era del tenero. Però ne abbia conferma quando una sera ero in cameretta, ho sentito il rumore alla finestra e mi sono affacciata a un bisturino con un battaglio di fiori tutto per me. L'aveva preso dal giardino del vicino, il vicino... Quindi vabbè, per non dire da troppo per le lunghe dirò semplicemente che non potrei mai scegliere tra un legame così forte e profondo come quello che ho con Rino e il legame che lega me e le mie amiche che siamo come sorelle da una vita che ci saranno sempre per me. Amore o amicizia? Beh, amici 2743. Continua, 2744. Niente male in confronto a quelli che ne hanno siano una ventina. Io non so con che coraggio ascano di casa questi. Cioè, anche io ci devo lavorare, eh? Perché quando arrivi ai 10.000, allora lì la strada stava in discesa. Lì puoi considerarti qualcuno. E solo lì può nascere l'amore. Cioè, te scriverete a uno che ha meno di 10 follower. Vabbè, solo per prenderlo per il culo scriverci oggetto nel genere. Poi, cos'altro vuoi sapere dell'amore semplice? Guarda, guarda, ti spiego. Allora, il ragazzo mette sempre il primo like. E poi la ragazza deve fare un'analisi, ma di quelle? Allora. E non c'è tutto i follower. Se ne ha meno di 100, allora quello è uno sticato platonico. Poi sangue, perché anche gli amici non devono scendere sotto i 100, se no veramente. E poi la risoluzione delle foto, perché io, per strada con uno che ha l'iPhone 2, non ci vado. Mi devo nascondere poi sia mai. Una volta che il ragazzo le ha messo il like e lei ricambia, si scrive in chat. Allora, è semplice. Perché è semplice? Allora. Cuore giallo, impervettito, lasciamo stare. Cuore rosso. Due settimane e ufficializzo la relazione. Cowboy? Emoji col cappello da cowboy? No. Quello spara una merda e raccolge le pomodori tutti i giorni. Fazzina così? Quindi spero che ti abbia presa appunti, perché ti vedo un pochino di difficoltà. Quindi se segui i miei consigli, queste cazzo segui amore e amicizia, non saranno altro problema.